fantastico per chi c'era già ieri partiamo già da un discorso ben preciso ok tipo no no arriverà dicevo con Maria Vittorio quello che dicevamo anche prima se usi gli spigoli è un po' più pesante però sulla destra l'altro cosa vuol dire che se giri non accontentarti di metterli lisci così e giro dagli qualcosa tu anche spingi un pochino, senti le gambe che fanno un po' di fatica ok parte alta sempre ferma tutto va bene adesso voglio darvi anche un giro questo no quando giù in giro poi chiamate una radio vi correggo già subito c'è in giù in fondo c'è la radio finito il gigante sulla destra vedete un palo tipo questo qui usate aperto la radio in giro non 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 Grazie